5G Italy, durante il suo intervento ha detto che il 5G non è solo mobilità ma ubiquità. In che modo si può garantire questo servizio universale all'Italia? Il punto è che oggi si sta creando una situazione che è simile a quella che si verificò un secolo fa quando furono costruite le grandi reti telefoniche. Non si poteva pensare, le istituzioni pubbliche non potevano pensare che il telefono arrivasse soltanto nelle aree ricche delle grandi città. Occorreva assicurare servizio a tutti. Lo si fece attraverso società pubbliche oppure attraverso concessioni a società private che stendevano la rete per tutti, la rete in rame perché allora era in rame, con obblighi di servizio universale. Oggi siamo in una situazione per qualche verso analoga perché attraverso la rete in fibra ottica, la rete in fibra ottica che arriva nelle case e negli uffici, la rete in fibra ottica che collegherà le stazioni radio del 5G, che saranno molto più di quelle delle torri attuali del 3 e del 4G. Attraverso la fibra ottica circoleranno miliardi di dati, ma la circolazione di questi dati sarà quella che consentirà di considerare al sistema economico e produttivo di usare il cloud, di usare l'intelligenza artificiale, di disporre di questa eccezionale nuova materia prima senza limiti, infinita che sono i big data, che consentirà di garantire nuove forme di servizi di prevenzione, delle malattie, di servizi sanitari, di monitoraggio del territorio, persino di prevenzione dei terremoti attraverso la rilevazione capillare di tutti i minimi movimenti terlurici che possono anticipare una scossa di terremoto, consentirà di diffondere le nuove modalità di divertimento, di intrattenimento, la televisione 8K e non domani 16K, consentirà tutta una serie di fruizioni, di beni e di servizi che non possono essere riservati soltanto a una parte della popolazione, devono essere garantiti a tutti, quindi c'è un problema di politiche pubbliche, come farlo? Occorre farlo incentivando la realizzazione di reti in fibra ottica, ma incentivandoli in modo che abbiano una copertura totale, universale per tutti i cittadini. Il modello di business delle società delle infrastrutture cosiddette Wolves & Ollies, che sono le società di infrastrutture, in Italia c'è Open Fibre, ma ce ne sono molte altre ormai che sono nate negli ultimi anni in giro per l'Europa, è quello di società che si pongono come unico problema quello di creare l'infrastruttura più moderna, più avanzata possibile, quindi quella in fibra, future proof come si usa dire, cioè che è l'infrastruttura di oggi ma del futuro, di un futuro che andrà là, andrà avanti molto tempo nel tempo, e di metterla a disposizione di tutti in parità di condizioni, senza fare concorrenza ai propri clienti, cioè ai service providers. Tutte le società di telecomunicazioni potranno usare questa infrastruttura, il fatto che ci sia uno che fa l'investimento per tutti rende l'investimento più efficiente, molto più efficiente che non costruire reti infrastrutturali in competizione fra loro che poi inevitabilmente finiranno per duplicare gli investimenti nelle aree più ricche del paese e lasciare senza investimenti e senza infrastruttura le aree meno ricche, le aree più periferiche del paese. C'è chi ostacola questo modello di business in Italia oppure no? Sì, c'è chi l'ostacola. Diciamo che una volta tanto questi ostacoli, chi ostacola il progresso, chi ostacola il futuro, non ha trovato in Italia coperture politiche. L'esempio viene proprio dal lavoro del Parlamento di questi ultimi giorni. Il decreto fiscale è stato approvato un emendamento presentato dal relatore 5 Stelle ma votato da tutti i maggiori gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione che prevede un meccanismo di incentivazione alla infrastrutturazione in fibra ottica da parte di infrastrutturatori wholesale, di infrastrutturatori non verticalmente integrati nel senso che a cui accennavo prima. Naturalmente si oppongono invece quelli che difendono gli interessi dei vecchi monopolisti della rete che hanno un ovvio interesse a ritardare nel tempo la dismissione, la liquidazione, la messa in pensione delle vecchie rete in rame perché su quelli hanno fatto affari per decenni e vorrebbero continuare a farli il più a lungo possibile anche se in questo modo rischiano di condannare il Paese a restare come è negli ultimi posti in Europa. Per fortuna questi che rispondono a interessi legittimi ma molto precisi che non coincidono con gli interessi del Paese non hanno trovato copertura politica in Italia in questi ultimi tempi. Un suo commento su questa conferenza 5G Italy promossa dal CNIT e organizzata da Supercom insieme a K4Biz. Mi sembra una straordinaria occasione per mettere a confronto competenze molto diverse e si è detto già in questa prima mattinata che il lavoro deve essere per forza interdisciplinare metterne a confronto in un confronto che ha tutto il tempo necessario, tre giorni per dare dei risultati consistenti in termini non solo di arricchimento delle conoscenze da parte di ciascuno di noi ma anche per consentire attraverso il confronto dei punti di vista dell'opinione di arrivare a dei risultati interessanti e concreti. Spesso si privilegia come dire la rapidità rispetto all'approfondimento. In questi casi è stata fatta credo molto opportunamente la scelta di utilizzare il tempo necessario una conferenza di tre giorni per avere dei risultati migliori.